Entrati nel backstage abbiamo ascoltato il ritmo brioso delle note suonate da Francesco Cafiso, Giuseppe Milici e Francesco Buzurro, pronti per entrare in scena sul palco del Teatro Golden, dove si sono esibiti per un concerto di solidarietà in favore della Rotary Foundation. Amici, prima ancora che colleghi, i tre musicisti siciliani, definiti magnifici tre, diversi nel proprio genere godono di fama mondiale. In questi 31 anni di professione, soprattutto il mio ambito è stato quello più della musica leggera, ho lavorato moltissimo con Pippo Baudo, dall'89 che collaboro con lui e perciò ovviamente facendo la televisione gli incontri sono stati tantissimi, non sono qua elencati, non vorrei tediarvi, però diciamo tante cose belle da poter raccontare un giorno, speriamo. Tu hai suonato pure per Barack Obama? Eh sì, una bellissima esperienza, nel 2009 ho suonato per l'insedimento di Obama, insomma essere lì in un contesto storico sociale così importante è stato veramente importante per me, formativo, perché ho condiviso il palcoscenico con il gota del jazz mondiale. Ho sposato una concezione della chitarra molto particolare che diventa strumento orchestra, ho sempre avuto questa visione molto allargata del mio bellissimo strumento e cerco di portarla in giro per il mondo facendo capire quali possono essere realmente le possibilità della chitarra con le corde in nylon che affronta i generi più svariati. La serata che ha riscosso un grande successo è stata organizzata da Rotary Club. Un trio molto virtuoso, musica colta e mostreremo tutto quello che stiamo facendo sia nel distretto sia fuori distretto.